Un'asta, molto interessante, uno dei suoi attrezzi migliori, questo del mio preferito di Fanny. Fanny F ні Fanny 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 On, my, now, my, then, now, and, maybe, now, maybe, we'll see. Sì, assolutamente, è una bella scelta musicale, è un esercizio che ormai ha da qualche tempo, ma che ogni anno sente suo, ed è bello anche da vedere, da rivedere, nonostante sia già visto. Tra l'altro, ecco, è bello vedere che questo sconto sarà tra due straniere proprio, Ilaria, sì, come dicevamo prima, stavo guardando adesso la Simakova pronta a entrare in pedana, che si preparava, mi è rivenuta in mente questa cosa. Belli questi momenti del suo esercizio. Ungheria contro Germania. Esatto, questo rischio che parte con una difficoltà di salto, con ripresa...